La interrogazione prende le mosse dal caso degli ex lavoratori della Thyssen Group AST di Terni, i quali, terminato il periodo di mobilità, chiedevano di poter accedere alla NASPI, ma si sarebbero visti rifiutare questa richiesta per la mancanza del requisito previsto dalla legge, cioè 30 giornate di lavoro effettivo nell'anno precedente, il periodo di disoccupazione. Al riguardo, occorre precisare che la NASPI e l'indennità di mobilità costituiscono entrambe forme di sostegno al reddito alternative tra di loro, volte a fornire una tutela ai lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente la propria occupazione. Come chiarito con un circolare IMSS 142 del 2015, successiva a quella citata dagli interroganti, il lavoratore subordinato che perde involontariamente il posto di lavoro accede all'una o all'altra forma di tutela, a seconda della tipologia di licenziamento. In particolare, l'indennità di mobilità spetta ai lavoratori subordinati che, in presenza di tutti i requisiti di legge, abbiano subito un licenziamento collettivo, mentre la NASPI è prevista per i lavoratori dipendenti che abbiano perso il lavoro a seguito di licenziamento individuale. Pertanto, nel caso di specie, i lavoratori dipendenti della Thyssen Group AST di Terni, a seguito dei licenziamenti collettivi disposti dall'azienda, hanno percepito l'indennità di mobilità. Dunque, il mancato accesso alla NASPI da parte dei lavoratori della Thyssen Group dipende dalla circostanza che gli stessi hanno già beneficiato dell'indennità di mobilità e non dalla mancanza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono il licenziamento. Da ultimo, voglio precisare che non si può parlare di discriminazione tra lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e i lavoratori che beneficiano dell'indennità di mobilità, in quanto il rapporto di lavoro dei primi, i lavoratori di cassa integrazione, è sospeso, mentre il rapporto di lavoro dei secondi, i percettori di indennità di mobilità, è un rapporto risolto. Nel caso dei lavoratori della Thyssen Group di Terni, non risulta che la società abbia fatto domanda di accesso alla cassa integrazione e pertanto i suoi lavoratori non hanno potuto godere dell'indennità di cassa integrazione straordinaria, ma solo dell'indennità di mobilità. La ringrazio. La facoltà di replicare l'onorevole Galgano. Io la ringrazio per la risposta, Ministro, però osservo questo, che il requisito per cui le persone in mobilità non possono ricevere la Naspi è stato successivo alla loro presa di decisione e finché non c'è stato l'inserimento del requisito, noi ci troviamo di fronte a persone che hanno preso delle decisioni, hanno fatto dei progetti di vita in un momento in cui trovare lavoro è molto difficile sulla base di determinate prospettive che quella previsione successiva ha tolto. Quindi io ritengo invece che una discriminazione ci sia, perché penso che le persone che...